ciao a tutti ragazzi e benvenuti sullele king tv con questo figo pronostico di torino parma ragazzi un figo pronostico diciamo di bassa classifica però un figo pronostico interessante a questo punto del campionato perché potrebbe significare la salvezza o la retrocessione quindi un figo pronostico importante soprattutto per il parma è vicino ormai alla retrocessione quasi matematica il torino invece è in piena corsa salvezza ok quindi per il torino vincere è importantissimo per il parma vincere non significa riuscire a salvarsi anzi per il parma secondo me è quasi impossibile salvarsi ci vorrebbe un miracolo detto questo ragazzi andiamo a pronosticare lasciate like e scrivete sotto nei commenti il vostro pronostico oltre a quello che uscirà poi da questo figo pronostico e poi tornate dopo il match a scrivere quanto è finita la partita giaccherini canotto e fabbro del cittadella branca iori e pavan della fiorentina barreca del parma incredibile parma in vantaggio ciprienne del parma e agutelo dello spezia ma per adesso risultato che insomma lascia un po' così sorpresi giannetti gondo e giuric della sernitana la padula del benevento traori del sassuolo lo stemma della fiorentina e lo stemma del cagliari andiamo avanti continuiamo a spacchettare le rager del genoa tre giocatori del venezia sono mazzocchi fellicioli e male mojica del dell'atalanta ferrer dello spezia e palomino della tea siamo ancora sull'1 a 0 per il parma fuori casa poi ragazzi sarebbe un risultato incredibile cremonese pinato valzagna e gaetano del torino arriva il pareggio baselli 1 a 1 torino 1 parma 1 cosenza falcone saracco e bitante torino ancora quindi torino che la ribalta con linee t ed è 2 a 1 per il torino zapata dell'atalanta quindi ragazzi siamo sul 2 a 1 ultima bustina che può essere veramente decisiva andiamo a vedere cosa esce fuori da questa bustina finale oliva del cagliari berami del genoa derun dell'atalanta sansone del bologna ultima figurina no non è nessuna delle due squadre ed è benali del crotone quindi ragazzi figo pronostico per torino parma 2 a 1 pronostico che a questo punto cioè ne è molto negativo per il parma che è con non un piede con quasi tutti e due i piedi soltanto il didino del piede di uno dei due i piedi è in serie A per adesso se il risultato fosse questo e il torino che con questa vittoria insomma ragazzi andrebbe molto molto vicino alla permanenza in A restate collegate perché andiamo a farci il cielo mi manca siamo pronti siamo pronti ragazzi per vedere a che punto stiamo arrivando con questo con questa avventura di questo set la 718 da tanto io non facevo più un set dei calciatori ragazzi 718 intanto è doppione 707 ci manca prima era normale per me fare l'album classico e il secondo album set poi ho iniziato a fare i video su youtube e ho fatto due album dei calciatori quanto ce n'era l'occasione andavo a fare due album tutti attaccando le figurine come l'anno scorso quest'anno ho voluto provare questa avventura 629 ci manca della Cremonese e poi 618 anche ci manca del Cosenza 614 ce l'abbiamo la togliamo 608 ci manca buono buono e poi ragazzi a breve inizieremo a metterci a fare veramente sul serio con con le figurine di dell'europeo e lì ci divertiremo tanto anche con quelle perché anche lì faremo i figur pronostici ragazzi appena iniziere all'europeo quindi preparatevi preparatevi perché c'è tanta roba da fare 494 è a Gudelo e ci manca 485 ce l'abbiamo che è Ferrer poi 466 ci manca la 466 buono che è Traoré poi 388 ci manca la 388 che è Cyprien poi abbiamo la 206 si dobbiamo andare qui andiamo un po' se ci manca la 206 la 206 ce l'abbiamo che è l'Era che era se vedevo che era l'Era che ne manco ce l'abbiamo a controllare perché lo sapevo che era lui che ce l'avevo Berami ci manca la 203 le raga ragazzi già l'ho detto in altri video è il calciatore che ho trovato di più in assoluto su queste cavolo di figurine calciatori 20-21 io non so se voi avete una figurina vi ossessiona che la trovate in continuazione poi abbiamo la 174 la 173 ci manca che è Barreca 165 ci manca anche la 165 è lo stemma della Fiorentina 151 ce l'abbiamo che è Benali poi 126 ci manca la 126 che è Oliva 113 andiamo a vedere ci manca pure la 113 ce l'abbiamo è lo stemma del Cagliari poi la 104 ce l'abbiamo anche la 104 che è Sansone poi l'83 l'83 c'è che è la Padula la 57 ci manca la 57 che è Zapata la 48 ci manca mazzato se manca strada la 48 che è Derun poi abbiamo la 45 che invece c'è che è Mojica e la 41 ci manca anche la 41 che è Palomino ok ragazzi per questo ce l'abbiamo mi manca è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti